E un saluto a tutti e benvenuti in questo nuovo video, io sono Nicolas e oggi sono qui per parlarvi del mio desk setup Ho fatto un video qualche mese fa di cui vi lascio il link qui in descrizione dove parlavo appunto del mio desk setup e di tutti i prodotti che possono migliorare la mia scrivania e anche le vostre E me è arrivato uno davvero molto intelligente che non ho mai pensato di averlo o di comprarlo, me l'hanno spedito e devo dire che il mio desk setup con questo piccolo prodotto è migliorato davvero tantissimo E' un gadget che serve per i joystick della Playstation, quindi sarà un video veramente corto, non ho tanto da dirvi, ma mi piace sia per estetica che per l'utilità, soprattutto per come è fatto Ma andiamo a vederlo subito Ed eccoci qui dunque a parlare di ICC Team, azienda che produce accessori per console e in questo caso ho ricevuto una bellissima base di ricarica per i joystick della Playstation 4 Devo dire che all'inizio pensavo fosse una grande cavolata e invece è risultato davvero comodo e soprattutto ottimo per il mio setup da scrivania Per far sì che i joystick possano caricarsi ICC Team ci fornisce nella scatola due connettori micro USB che andremo a inserire nella presa del joystick appunto Sul retro di questi connettori invece ci sono dei pin che appoggiandosi alla basetta fan sì che possano essere caricati Il design risulta essere molto elegante e il rapporto qualità prezzo è a dir poco ottimo, infatti si tratta di circa 19 dollari se non erro Sono rimasto davvero molto colpito da questo prodotto, era uno di quelli che non pensavo mai di provare Ma devo dire che sia design, sia qualità, sia tutto ha fatto sì che questo prodotto sia appunto diventato fisso sulla mia scrivania Vi lascio il link in descrizione con il prezzo e tutto Costa davvero poco perché si aggira intorno ai 19 dollari quindi se volete acquistarlo perché volete un po' più di ordine sulla vostra scrivania Quindi che dire, spero che questo video vi sia piaciuto, ci vediamo nel mio prossimo video, ciao! Ciao!